La tecnologia è arrivata anche fra panettoni, ceste di vimini e spumante e il tradizionale pacco di Natale diventa parte di un cloud aggiornato in tempo reale. È una impresa di Perugia a derogare questo servizio unico in Italia. L'obiettivo è far arrivare nelle case dei dipendenti di grandi aziende l'atteso pacco di Natale. La nostra azienda ha sviluppato un software, un sistema gestionale, che viene messo a disposizione di vari produttori. Da Perugia controlliamo la loro produzione, gestiamo il commerciale, gestiamo il marketing, fino ad arrivare a gestire il digital marketing. La gestione digitale del marketing natalizio è sempre più necessaria. Basti pensare che nel periodo compreso fra il Cyber Monday e il 25 dicembre transiteranno in Italia circa 50 milioni di pacchi regalo, un sesto di tutto l'anno. Si va dall'azienda più importante, dallo stabilimento industriale organizzato con robotica, al produttore di cioccolato molto rinomato e che si trova a negozio a dei prezzi molto alti. Trattiamo qualche centinaio di migliaia di confezioni. Già da gennaio la pianificazione in vista di Natale 2020. Grazie. Grazie.